Un giorno di digiuno per testimoniare il proprio no alla logica della guerra. Qualcuno potrà sorridere, commentare ironicamente, ma l'iniziativa del presidente della casa dei fili d'erba, Pietro Ravallese, vuole essere una testimonianza di chi non vuole arrendersi, di chi non intende essere solo spettatore, inerme, succube della logica del conflitto. Un piccolo segnale che parte da Salerno con la speranza che cresca un movimento che faccia comprendere che la pace non è solo una sterile dichiarazione di intenti, ma un obiettivo che si raggiunge anche se non ci si arrende alla guerra. Non mi arreddo alla guerra, digiuno per la pace. Sono giorni drammatici in Ucraina, in Palestina e in tanti altri luoghi del mondo in cui si combattono e muoiono civili e militari. Cosa posso fare io per gridare il mio no alla guerra? Ho deciso di digiunare una volta alla settimana fino alla fine delle due guerre in Ucraina e in Palestina. È il mio modo non violento per denunciare e rivendicare la pace. Tutti voi se volete potete sottoscrivere nel commento al post fissato in alto sulla pagina di Facebook della casa dei fili d'erba e di Instagram il giorno che scegliete per digiunare e fare insieme, tutti insieme, una grande diplomazia non violenta per la pace, per rivendicare la fine di questa tormentata guerra sia in Ucraina che in Palestina.